Nessuna iniziativa privata e evitare di lasciare il cibo, perché è chiaro che il lupo è un predatore, va alla ricerca di cibo all'esterno delle abitazioni e quindi si avvicina proprio perché ha la sua portata da mangiare. Anche con gli animali domestici bisogna fare particolarmente attenzione. Gli avvistamenti ormai sono all'ordine del giorno, anche vicino alle case come nella zona di Marino Famercato a Subiano, cresce così nell'aretino e l'allarme lupi che negli ultimi giorni hanno fatto anche stragi di animali d'allevamento come pecore e muffloni. Anche per gli allevamenti, quindi laddove è possibile installare delle recinzioni, è chiaro che molto dipende, ripeto, dai comportamenti individuali. Il caso adesso è finito in prefettura. Si è infatti riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Maddalena De Luca, alla presenza dei rappresentanti delle forze dell'Ordine, del Comune di Arezzo e della provincia. Uno dei temi trattati è stato proprio questo. Attraverso l'attività dei carabinieri forestali mi hanno rappresentato quale è la reale situazione sul territorio. Si parla di esemplari che vengono classificati in gruppi, perché il lupo si muove in branchi. Sono circa 25 famiglie microchippati, quindi sono monitorati e anche gli altri che non hanno il microchip sono seguiti e controllati attraverso le telecamere. Questa è una situazione che preoccupa. Cosa è stato deciso di fare? Sì, è sicuramente una situazione molto complessa che merita tutta la nostra attenzione. Ora a brevissimo convocherò un incontro con tutti gli attori che sono coinvolti chiaramente e che sono preparati sulla materia, per cui anche la Regione, anche la Task Force Lupo, proprio per individuare quelli che sono però dei comportamenti che vanno adottati. Grazie.